Salve a tutti, io sono Adelongamer e bentornati su ARK Survival Evolved. Purtroppo per problemi tecnici non ho potuto prendere il gigantosauro, quindi siamo ancora sulla nuova mappa. Oggi esploriamo una zona splendida, l'isola volante, piena zeppa di pericoli e con un sacco di dinosauri alfa. E siccome soffro di vertigini, ovviamente mi faccio la casa vista strapiombo con pavimento in vetro. Sì, sono un pirla. Buona visione. Buongiorno a tutti e ben ritrovati ancora una volta su ARK. Allora, in tutti gli effetti qui oggi ci sarebbe dovuto essere l'episodio con la cattura del gigantosauro, ma ho avuto una marea di problemi informatici, quindi ho dovuto ripiegare su un episodio più semplice. Ti vedo laggiù. Quindi oggi partiremo all'esplorazione di quell'isola volante che è un po' che volevo andare a vedere. Allora, prima di tutto, madonna la lentitudine dell'Air France, porco di quel cane. Molto dite i francesi che hanno le aquile che pesano troppo. Scusi, signor lupo, siccome lei è il cugino di quelli dell'altra volta, venga qua che mi avete quasi buttato nella lava. Vediamo se è pirla, vediamo se è abbastanza pirla. Vuole vedere se si buttava nella lava da solo. Dai, venga, venga che le faccio scoprire la bellezza dei bagni termali. Coglione in tre, due, uno. E pirla, perfetto. Ci siamo presi un morso. Guarda come nuota bene, guarda come è bravo a nuotare. Ed è morta. Bene, possiamo procedere verso l'isola. Che vi dirò, visto anche il livello di pericolo dell'ultimo episodio, sono anche un po' contento di lasciare questo posto indemoniato. Ma temo che ci torneremo molto, ma molto presto. E guarda il paradiso del T-Rex laggiù. Che poi vedo che anche lassù c'è un altro vulcano. Mmm, Gisualda. Prima o poi la casetta in cima alla montagna di lava ce la facciamo. ma di quelle faighe, faighe. Facciamogli stronzi anche col T-Rex laggiù. Dai, ragazzi, dieci secondi. Permettetemi di fare un po' la stronzata. Tutto per vedere quanto il T-Rex mi resista all'interno della lava. Ah, c'è un T-Rex anche da questa parte. Ok, evitiamo di... Guardalo, guardalo, guarda, pirla. Pirla, vai di pirlata. Vai di pirlata. Vedete che non mi arriva l'altro T-Rex da dietro. Ah, no, resiste anche abbastanza bene. Bisogna dirlo. Però non è che sei tanto geniale te come animale. Ciccio. Ciccio, ti dovresti fare tanto, 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 ma tanto male. Oh, ok. O anche morire eventualmente. Anche quella è un'altra possibilità. Adesso sappiamo come si sono estinti i dinosauri. Probabilmente tentavano di fare i bagni termali nella lava. E abbiamo un altro T-Rex deficiente laggiù. Però quello ogni tanto mi entra in acqua, quindi è un po' mezzo deficiente. Ma dimmi te, ma vabbè. Allora, se ho capito veramente bene, l'isola volante è quella gigantesca isola in basso a sinistra sulla mappa quella circondata dall'acqua. Quindi, oh mio Dio, io mi aspettavo qualcosa di piccino piccio e invece è abnorme. Allora, io in preparazione in questo episodio mi sono già, come potete vedere, procurato la sella dell'Argentavis, che mi ha richiesto un po' di materiali, ma nulla di che, e un po' di risorse. Siamo stati anche fortunati perché la zona era ricca sia di cristalli che di metallo, quindi ho potuto fare anche le mie finestrelle che saranno, presumo, uno spettacolo per la nostra casetta sull'isola, che penso abbia anche molti altri paesaggi da offrire. Che poi, devo dire, veramente i programmatori di Ark stavolta hanno fatto un signor lavoro. Cioè, immaginatevi farvi anche una casetta in cima a questa roccia qui. Che cosa vi ha fatto? O magari collegare tutte queste rocce, ooooh, con una specie di ponticelli e farci tante abitazioni. È uno spettacolo, con l'acqua sotto. Ma dai! No, davvero, è un peccato che questa non sia stata la mappa iniziale di Ark, o, oh mio Dio, sarebbe stato qualcosa di considerabilmente più figo. E speriamo non abbiano messo le paludi, così non ci sono quei schifosi di serpenti e altro. Ah, ho ancora gli schifi addosso. No, vabbè, hanno fatto il ponticello di roccia. Io questa mappa la sto adorando. No, 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 qui noi ci faremo una casa prima o poi. Una piccola casetta. Oh, no, scusate, fatemelo vedere. No, vabbè, è piccino piccio, ma è veramente una casa che ti permette di sorvegliare l'intera zona. Cioè, da questo punto in PvP avete una visuale che vi permette di controllare tutta l'area circostante? Oh mio Dio, è pieno di ponticelli da queste parti. Pensate che figata assurda potrebbe venire. E ovviamente ho parlato troppo presto, ho trovato la palude e quella laggiù dovrebbe essere la nostra isola. E quello lassù è un brontosauro che non dovrebbe stare lì. Animali molto confusi, eh, in questa mappa di Ark, ma vabbè, lasciamo stare. Però, vabbè, ragazzi, guardate che cavolo di panorami si sono andati a creare stavolta. È fantastico sto posto. Ah, no, scusa, no, 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 fe, 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 fe. Che, 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 che ci fate lassù? È pericoloso. Ragazzi? Scendete da là che è pericolosissimo. Cioè, scendete da là un cazzo. Siete a 8000 metri d'altezza. E ci sono i sarco sotto. E i serpenti? Ah, no, i serpenti. Oh Gio, lo schifo. No, 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 no. Non guardare in basso. Non guardare in basso. Non ci sono serpenti. Ma porca di quella porca. Anche il mio framerate sta andando a merda. Mi perdoni, scusi, ho una curiosità. Come cazzo è arrivata a lei qui? Ma vabbè. Ah, le api! Le api, corri, corri, corri. Maledette api, rompi i coglioni. Ma dimmi te. Ah, no, aspetta. Magari sono di quelle che non attaccano. Guarda che scivoli, deficiente. Crettino. No, no, che cadi. No, che cadi. Eccolo che è caduto. Eccolo che è caduto. Vabbè, non si fanno niente. Per fortuna che qua gli animali non hanno i danni da caduta. Ma vabbè. Però c'è il framerate a merda in sta zona, eh. No, vabbè. Ma guardate che cascate. Ok, questo episodio sarà più un giro turistico che altro. Ma quest'isola ce la dobbiamo guardare, raga. Oh mio iddio. Hanno fatto le mega cascate. Che figata assurda non è sta mappa. E questa è l'isola, allora. È bellerrima. Non è bellissima, è bellerrima. No, scusa, atterrami un secondo, ciccio. Aspetta che non mi attacca veramente un T-Rex anche mentre siamo qua in montagna. No, vabbè. Ma io di Ark mi sto innamorando. Ma guardate che panorami splendidi. Fantastico. Che poi da qui l'acqua non si sa da dove arrivi, eh. Ma vabbè. Però sono salito un attimino a dare un'occhiata migliore. Che spettacolo di posto non è. Ma... Ma dai. No. Oh mio Dio, quella è una grotta. Se quella laggiù è una grotta gigantesca... Oh, ci potrebbero essere delle grotte anche su questa mappa, effettivamente. Oh, interessantissimo. Madonna, con le cascate così è bellerrimo. Sì, mi sto innamorando di questa mappa. E adesso non ho la più palida idea di dove potremmo fare la nostra casa. Ci sono letteralmente posti dovunque. Ah, i miei poveri miei occhi. Certo, se ci facessimo la casa dentro la grotta saremo iperprotetti, praticamente. Non penso che potrebbe spawnare nessun nemico bricoloso. E da lì con l'aquila potremmo raggiungere qualunque punto. Mmm... Ma col culo che mi ritrovo ci sarà una tana di gigantosauri. Alla gioia. No, c'è una... Quantità in mani di metallo! Buongiorno, grotte, parliamone. Qua... Guarda, metallo! Gisualda non è contenta, abbiamo già trovato le riserve aure. Guarda, lì ci sono i cristalli per le finestre. Metallo, i cristalli per le finestre. Fatta! Fatta! E ci sono anche masse tumorali sul soffitto che stanno spawnando alla lentezza della vita. Bello! No vabbè, Gisualda, non ci si fa qua la casetta. Che figata di posto non è? Ma dai! C'è anche il fiumiciatolo dentro! E c'è anche il T-Rex incorporato! E perché c'è del fuoco laggiù? Cosa... Cosa sta guardando? Cos'è? Perché vedo cose di fuoco? Gli alfa sono molto più evidenti adesso. Hanno reso gli alfa consideravolmente più evidenti. E ovviamente l'alfa raptor sta facendo fuori tutti. Che culo, ho appena detto faccio casa e Ark subito mi sporna un'alfa per dirmi. Sì, ciccio. Aspetta, aspetta. Ti faccio cambiare idea io adesso. Però no, ragazzi, sta grotta è... C'è pure la cascata centrala! La cascata centrala no! C'è un limite al livello di eccitamento che io posso avere in questo momento. Però la facciamo distante dal raptor alfa, eh? In tutta sincerità. Guarda i castori laggiù! Ma è bell'è il rimosso posto, Ark! Beh, che cacchio! Oh, immaginate se ci facciamo la casa in cima e l'ascensore che arriva verso il bar. Oh, si può fare! Programmatori di Ark, mi dite che si può fare, vi prego. Aspetta, andiamo a scendere senza che mi attacchi ogni singolo testa di minchia della zona. Due secondi, se non mi attaccate proprio subito, subito, adesso now. Eh, ma che culo ho trovato anche il T-Rex alfa! Wow! Grazie, Ark, che non mi fai mancare nulla per mai bestemmiare, eh! Porco di quel cane che è qua sopra! Ma se mi finisce nel crepaccio di sotto dove faccio casa io, saranno cazzi in mani! Ma porca di quella porca! Eccolo che cade di sotto, eccolo che cade di sotto! Ma, ma veramente? No, dove mi si è glitchiato? Ma, scusi? Esimio T-Rex alfa? Nella roccia! Eh certo, perché con Ark funziona così, ovviamente! Ma no, che volevo far casetta io! Ma maledetto rompi i coglioni! No, dai! Ma guarda che rompi i coglioni! Se ne frega lui della forza di gravità! Oh, cacchio! Però se siamo furbi potremmo farlo volare ancora più! No, che mi fa fuori tutti i castori adesso! Ma che palle! Ci potevamo fare un castoro! Eeeh, l'altro alfa è lì! Un'alfa qua! Potremmo veramente farcela qui! Il panorama è veramente carino! E ho anche i cristalli dietro casa! E più avanti potremmo anche tentare di fare un ascensore! Se si riesce, non lo so se è possibile! Che ci porti di sotto! Se fosse possibile! Gisualda veramente l'eccitamento! E ci abbiamo anche i metalli! Oh, ma io sto posto l'odoro! Cioè, ti spawnano un attimino tanti, 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 tanti alfa! Però non è male per il resto! Cioè, se riesci ad andare oltre agli alfa! Ok! Gisualda è anche quasi notte! Quindi direi che è meglio se ci mettiamo al lavoro o passiamo intanto qua la notte! E domani mattina vediamo di cominciare la nostra piccola impresa idile! Oh, c'è anche uno stego! Dai che ci domestichiamo lo stego che non l'ho mai domesticato! Ok! Nuova mattina! Siamo ancora vivi e la zona non è niente male! Ah, sì! Come al solito ci sono strane forme di vita! Come potete vedere... Cos'è un dim... Un dimodorfone morto malerrimo! Minchia sicuramente l'alfa di prima qua ha fatto strage! Ah, sono un po' sminchiata le texture per via della... Dell'effetto nebbiolina! Ma chissene! Cioè, volete mettere e farvi la casetta qua? Dai ragazzi! C'è la vista cascata, la vista alfa dei T-Rex e Carno e altre cose che ti volano di sotto! E non è male, eh! E c'abbiamo anche lo stego livello 23 che si sta avvicinando dalle nostre parti! Mmm, non è livello altissimo ma purtroppo, dato che siamo di nuovo agli inizi su questa mappa, t'ho visto, laggiù minchione, non possiamo cercare di domesticare animali troppo di altissimo livello perché ci mancano le risorse! Quindi, si va di stegosauro! Allora, Air France lo mettiamo in neutrale, diamoci una mossa che è anche quasi mattina Scusi, lei mi sviene vicino a casa, anzi, vicino a Futuraca Dove vai? No, ah, di qua, mi vieni di qua Ok, grazie, gentilissimo Non so neanche quanto ci voglia accusare uno stegosauro Speriamo non... No, dove vai? Di già! Sei già che mi svieni? Oh la madonna! Tre proiettili sul culo mi sei già svenuto Minchia, non ci sono più gli stegosauri di una volta Buongiorno E io la domestico però, eh, se mi dà un secondo Tu visto? Che fai salti laggiù C'ho la paura ovunque Uh, hanno messo anche i fiorellini Ma non c'erano i fiorellini una volta Madonna Questo posto è veramente bellerrimo È troppo bellerrimo Che poi ci è andato veramente di culo, ragazzi Sta zona è qualcosa di fantastico Abbiamo dei materiali incredibili Il problema è veramente che Io spero che lo spawn degli alfa sia stato casuale, eh Perché se no, veramente, siamo andati a buttarci in una zona di merda A parte che quest'isola è considerevolmente più difficile Ok, allora io ho recuperato i materiali da costruzione dal nostro Argentavis E direi che questa zona qui Ah, la paura La paura non è niente male per costruire Che poi sono pure pirla io Vado a scegliermi l'isola volante E faccio la casa sullo strapiombo Quando ho grossissimi problemi con le altezze Che quanto non sono masochista io, ragazzi Allora, vediamo se riusciamo a farla un po' in là Perché se ho capito bene Dovremmo poter mettere il pavimento in vetro Per almeno due strutture Quindi, oltre a questa Ah, 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 pe, pe Madò che brutto Dovrei poter mettere due pavimenti in vetro in quella direzione E mi sto molto pentendo e anche cacando tutto No, aspetta Guardiamo verso di qua che è molto più bello Madò l'ansia Che poi io mi ero procurato tutti i materiali In modo tale che non Non rimanessi sfornito stavolta E abbiamo tutto quello che ci serve qua attorno È fantastico Oh Anche qui ci sono i temporaloni con pioggia molto seri Mmm Gisualda Dobbiamo fare anche qua il Una riserva di acqua assurdamente in fretta Sì, hanno reso molto più seri i temporali adesso Bisogna dirlo Sì, che poi riserva d'acqua C'ho la cascata dietro casa Quindi ho detto leggere Te una pirlata Scusate sto zitto Minchia che tempaccio da ste parti Che devo anche stare attento Che adesso col bagnato che maria Gisualda Mentre costruisce Mi scivola di sotto Minchia Io spero che i fulmini non possano realmente colpirci Però che bello con l'alberello qua in parte Che spettacolo Tipo un salice piangente No, senti che i rumori sono veramente paurosi Mi rendo un po' nervoso Allora, vediamo Dovremmo poterlo mettere per ben Uno e due Ah, solo una Solo una Un vero peccato Troppo alto rispetto al terreno Ma ma che stronzo che sei gioco Ma porca di quella porca Volevo fare il faigo io No, perché se avessimo potuto metterne due Sarebbe stata qualcosa Oddio Anche già così mi fa cacare sotto abbastanza E sarò sincero Allora, sapete cosa? Vediamo se ho già preso i muri No, vado a prendere anche le mura E ci facciamo un intero piano Direttamente anche col tetto in vetro Che è una cazzata immane Madonna, che cazzata che sto facendo Beh, è innegabile Sentire che suoni Che adesso i temporali Sono qualcosa di fantastico Prima era una semplice pioggerellina Adesso è un temporalone in pieno stile Ecco, questo è il tipico clima giusto Per farmi spuntare un T-Rex alfa All'improvviso da dietro un angolino Ah, cacchio Ma d'affanculo Ho detto T-Rex alfa Non Cristo di Fulmino Scorpius Del merda Ah, mi sono spaventato tant'errimo Madonna il col... Gisualda? Ah no, Arca che salva Credo che la Gisualda Che mi stava per svenire all'improvviso Ma porca di quella porca al colpo Che poi A sto punto Visto che abbiamo più vetri del previsto Io mi allargo la casetta E chi se ne frega Ma sì, ma sì Facciamo i faighi Tanto non è che si paga l'imu Qua su Ark Ah, per fortuna Ok E qua ci possiamo anche piazzare Le nostre finestruelle Vai Non so se ne avrò abbastanza Però voglio dire Verrà fuori una casa con vista Della Madonna Che io mi caco tutto Ve l'ho detto Però dai E non è niente male E non è niente male Che puoi notare la mia furbata? Sto sulla struttura in metallo Con un temporale Un genio ragazzi Sono un genio Ok Per fortuna che qua Il cambiamento climatico in Ark È veramente rapidissimo Quindi abbiamo di nuovo il bel tempo Ah, mi ero dimenticato Di prendere la carne da lei Che pirla che sono Ma che gentile Però mi ha procurato Anche un po' di risorse utili Per dopo Hai capito la natura di Ark Che veramente mi viene incontro E il resto Della casa invece Ce la facciamo Con le paretuine Normali Normali Che tanto Dovrebbero essere Ben più che sufficienti E oh Mi sto pentendo amaramente Dell'idea che ho appena preso Gesù mi sto C'ho il buco del culo Stretto stretto Non vi mento Questa parte invece Ce la potremmo fare Con i tetti inclinati Anche perché Farò una scasa Molto semplice Ad un piano È inutile complicarsela Troppo all'inni Ah, in questo momento Vediamo se posso Craftarmi basette No Cisualda Come fa aver freddo E andava tutto bene Ieri notte Oggi fa freddo Veramente Così all'improvviso Madonna santa Anche lei C'ha gli sbalzi termici Così improvvisi Ok Allora io vado a procurarmi Un po' di materiali Per continuare con il resto Della casa E intanto aspettiamo Anche che lo stronzone Mi sia domestichi E noi ci vediamo tra poco Ok Me la sono appena vista Bruttissima Una maledetta tigre Ha praticamente Quasi ucciso Il nostro stegosauro Porca di quella porca Sono Credo abbia tipo 5 HP di vita Quanto hai di vita ciccio? 15 HP di vita Quindi Iei L'ho salvato per il rotto Della cuffia Maledette tigri Rompicoglioni Ma porca di quel cane Allora Sono andato come potete vedere Un po' avanti Con la nostra bellissima casetta Bellissima Diciamo Casetta Sullo strapiombo Perché sono un grandissimo pirla Allora Siccome più di qualche volta Ho rischiato Mentre saltavo per entrare Di finire di sotto Prendiamo delle precauzioni Perché mi si è stretto Il buco del culo troppe volte Allora Prima cosa Qua mi ci metti una rampina Porco di quel cane Seconda cosa Onde evitare Che Il problema si ripresenti In ogni caso No Madò Madò mi cacco Aspetta Pia 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 Piano Piano arc Piano arc Qui Ci mettiamo Un po' di cosi In modo tale Che ci possa mettere Mezza ringhierina Perché vi giuro Mi sto cacando Tutto tutto Sì perché non è possibile Che uno debba temere Di entrare in casa propria Ok Un po' meglio Sì che comunque adesso Quando salto qua Finirò comunque di sotto Come un coglione Però mi fa sentire Giusto un attimino Più sicuro Abbiamo un problema Le liane dell'albero Vengono un attimino Dentro casa Ma fa molto rustico Non è un caso Chi l'abbia fatta Con sia pietra E sia col pavimento In legno Sì diciamo che Si intona un attimino Di più all'ambiente Se l'avessimo fatta Tutta tutta di pietra Sarebbe stato Un pugno Nell'occhio in mano Sembra più Trovo una cattedrale Che altro Allora Qui abbiamo fatto La nostra area cucina Anzi aspettate Che dovrei avere Altro da buttare Sul fuoco E intanto E intanto mettiamo Il nostro metallo A sciogliere Perché come vi ho detto Ne stiamo raccogliendo Un bel po' Il resto L'ho lasciato su Air Force One Qui noi ci possiamo Mettere il nostro lettino Ecco qua Gisualda Così che quando si alza La mattina Mi ha la visuale Direttamente sullo Strapiombo Con sotto tutti gli animali Alfa Che ci aspettano Ma do il cago Ma do il cago Però non sta venendo male Devo dire che la zo No 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 Ti vecco Che ti avvicini Allo stegosauro Non l'ho detto Rompi i coglioni Ma santissimo cielo C'ho la paura Adesso per quel povero Stegosauro Veramente Se gli sputi addosso Muore il povero Cristo E giustamente Ci mettiamo anche Il piccolo armadio Per contenere le cose Che fino adesso Ho scaricato dentro Air Force One Che peserà Quei 922 chili adesso Ok E mezza porticuina Perché se no La gente Mi entra in casa Sì la gente Diciamo No 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 Ti vecco Lo vecco Ma porca di quella porca Ma hai un momento di relax Ma dimmi Tu del pulmino Scorpius De merda Ah qui là E se dai una mano Non è che m'offendo eh No Anche la tigre Anche la tigre Ma veramente Ma No no Non riesco a prendere la mira E la tigre volante anche No Fuori dai coglioni Fuori dai coglioni Che non riesco a prendere la mira No No Madonna c'ho paura Di pigliare la tigre Eh la tigre L'argentavis Scusa eh Mi insegui a me cortesemente No insegui me Ok Così ti riesco a pigliare meglio Oh Oh madonna Devo proteggere No che te poi mi voli di sotto Me lo sento Ti parcheggiamo in un altro luogo Senti Stammi qua in difesa Del Di quel povero Cristo Di stegosauro Che adesso lo vogliono tutti morto Ma dimmi te Ma Posso avere 5 secondi di relax Arc 5 5 Non ti chiedo tanto Ok Il nostro stegosauro È quasi a posto Abbiamo raccolto una marea di risorse Ed è praticamente l'alba E c'è un rompicoglioni laggiù Tanto per cambiare Anzi no Ti sparo con questo Se cerco a prendere la mira Ho dovuto stare praticamente attaccato Al culo dello stronzo Perché c'era sempre qualcuno Che attaccava Ma dimmi te Mai un momento di pace Su Arc È praticamente l'alba E c'è un effetto di colori e luci Che è veramente bellissimo Secondo me Ho avuto anche culo Che mi sono venuti un po' di 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 cose I cristalli Quelli che contengono gli oggetti Che mi hanno dato un po' di cosine interessanti Mi hanno risparmiato un po' di fatica Allora intanto vediamo di mettere i tetti Anche se non penso che lo stegosauro Dovrebbe impiegare più di qualche minuto al massimo E ok La nostra casa è quasi a posto Adesso che crafto anche il banco da lavoro Dovremmo poter fare l'ultima L'ultima sezione qui anche in vetro Porca di quella porca Il panico Ciccio te mi raccomando Proteggi bene lo stego Aspetta che è francese Ciccio me raccomando Tu protegge le stronzon laggiù Perfetto E qua abbiamo anche il nostro banco da lavoro Perfetto Questa sarà la zona di cucina Barra lavoro e vi E mi è finito proprio adesso Speriamo che tu mi abbia Cosato un altro po' di metallo Perfetto Abbiamo metallo come non ci fosse un domani Allora ci possiamo anche craftare Un tavolo No mi serve un po' più di legno E con il tavolo Possiamo metterlo così Bello visibile La zona sottostante In modo tale che la gisualda Mi mangia con timore Che poi siamo onesti La gisualda non c'ha paura Sono ah 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 Sono io quello che si cacca tutto Stando su Vado Mi sto caccando un bel 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 po' Ecco gisualda Glielo mettiamo tipo qua Così che lei può pranzarmi E farmi colazione direttamente Con la bella visuale sotto C'è il sole che rompe un po' i coglioni Con i riflessi Ma vabbè Oh 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 Si è domesticato da solo E non mi hanno mai avvisato Ma porco cane Allora Ma avvisare la gente Un po' di educazione Vedo che anche in questa nuova isola Le maniere le hanno proprio dimenticate completamente Buongiorgio Sa che lei non l'avevo mai 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 Ma proprio mai è domesticata Ma porco cane anche io Allora Che nome ti diamo Te c'hai tipo Gli spunzoni così Come si chiamano gli spunzoni in inglese Spike Ti chiamo Spike Ho giudicato Che ovviamente di sesso femminile E io subito La prima creatura che ha domesticato Già gli sbaglio il nome Va bene Appena ci viene un nome Più femminile Te lo diamo Ok Ha cagato come a dire sì Ok Abbiamo anche lo stego finalmente Mi segue lei Anzi lei mi si ripiglia un po' Ah si è ripigliata Perfetto Ok Mi era tipo quasi morta E lei guardi Le ho praticamente salvato la vita Allora Dovremmo avere quasi tutto Per fare le nostre finestre E dovremmo anche Aver praticamente Fatto tutto Ah che fatica di esistere il gioco Ecco te Giusto Giusto il materiale Per craftare ciò che ci serve Siamo a posto Ogni tanto c'ho anch'io le botte di culo Quindi abbiamo Allora Uno di qui No Gisualda mi ha bevuto cose lei Madonna Sempre un'occasione per bere robe Ma vabbè Ed ecco Qua che dovrebbe No Gioco Gioco Coopera Grazie Ed un'ultima qui Ah che faticaccia Però Gisualda Guardi che pella La visuale Vedo perfino Aquile laggiù Beh non è la nostra No che bestemmio No ok la nostra è là C'ho sempre paura che mi partano all'avventura all'improvviso E ok Anche la nostra casetta Vista Strapiombo è a posto Non vado neanche a scoprire Se là sotto Ci sono ancora tutti gli alfa Che stanno facendo Cosacce Stragi O peggio Però almeno ci siamo domesticati Finalmente lo Segusauro Che non avevamo mai perduto Sulla partita originale Beh non so voi Ma io questa isola volante La sto adorando E immagino ancora Che dovremmo esplorare Un bel po' Di suoi luoghi E come potete Come avete potuto vedere È un luogo anche molto Ma molto pericoloso E ok Io direi che anche per questo Episodio di Ark è tutto E noi ci vediamo nel prossimo Ciao ciao E quest'oggi salutiamo Stefano e Carolina Pizzicato Elena Gasparetti Black Vamp Gabriele Rebassi Ender Souls Mario Riva Dark M Lizard Locke Alexi Generale Andrea Scarabello Hidden Glitch Pitt Filippo Ciraulo Emilio Baglini Giuseppe Furiosi Adolfo Savarese Diego Gallo Alessandro Secchi Lorenzo Amato Marco Leccese Edoardo Raffaelli Rino Boy Gianni Ricci Sghirlapieri Francesco D'Andra Sara Forniti E Domenico Contu